Buongiorno, sono Daniele. Oggi andiamo a presentare l'Ananas Flambé al Maraschino. Per l'esecuzione di questa ricetta avremo bisogno di ananas fresco tagliato a pezzetti, dell'uvetta sultanina rinvenuta nel maraschino, dello zucchero di canna, qualche cubetto di burro, una pallina di gelato di crema e ovviamente per flambare un po' di maraschino. Andiamo quindi ad eseguire la nostra ricetta. Accendiamo il fuoco sotto il padellino. Aggiungeremo per incominciare qualche cubetto di burro. Piano piano il burro si scioglie. Un mezzo cucchiaio o poco più di zucchero di canna. Che sul fuoco aiuteremo a sciogliersi un pochino, fin tanto che il padellino non ha preso la giusta temperatura. Appena vediamo che il burro sfrigola abbastanza vivo, andremo ad aggiungere i nostri cubetti di ananas. che possiamo incominciare a saltare. Quindi aggiungiamo anche un po' di uvetta sultanina rinvenuta nel maraschino. Il tempo di far scaldare un momentino, quindi si andrà a flambare col maraschino. Useremo quindi la buccia del nostro ananas come guarnizione. Una leggera flambata, appena si spegne la fiamma, lasciamo restringere un pochino il sughino di cottura. Quindi potremo servire finendo il piatto con il gelato di crema. Possiamo aggiungere il gelato. E infine glassiamo con lo sciroppo rimasto nella padella. E il piatto è pronto. Grazie. 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 Grazie.